E' stato estradato dall'Austria il quinto scafista della strage di Cutro dove, ricordate, persero la vita 94 migranti. L'uomo 27enne di nazionalità turca era stato arrestato nei giorni successivi alla strage dagli investigatori di Crotone e da quelli della sezione operativa navale della Guardia di Finanza. Sentiamo Francesco Salvatore. La settimana prossima potrebbe già essere presente in tribunale a Crotone durante l'udienza per l'incidente probatorio. Gun Ufuk, 28 anni, turco, il presunto quinto scafista del naufragio di Cutro. Nei video diffusi dopo la tragedia gli scafisti sono sul ponte della barca. In stiva invece i migranti, prima del naufragio. La secca davanti alla spiaggia di Steccato di Cutro. E poi tutto in frantumi. 94 i morti accertati finora. Stamattina Ufuk è stato consegnato dalle autorità austriache a quelle italiane al confine tra i due paesi, a Tervisio e in Friuli. Era fuggito oltre Alpe. Dopo il naufragio si era subito dileguato, salvo poi essere arrestato il 7 marzo. Qualcuno forse ad aiutarlo. Sarà portato nel carcere di Udine e poi trasferito a Crotone. Le accuse nei suoi confronti sono di omicidio colposo, disastro colposo e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. La prossima settimana quindi a Crotone si terrà l'incidente probatorio. L'udienza serve per cristallizzare le testimonianze dei migranti sopravvissuti al naufragio prima che lascino l'Italia. Intanto l'emergenza migranti in Calabria diventa cronica. L'ultimo sbarco due giorni fa. 40 migranti arrivati a Crotone. E non si fermano neanche i trasferimenti dalle altre regioni. A Reggio è previsto l'arrivo di una moto vedetta della Guardia Costiera con 500 migranti provenienti dall'hot spot di Lampedusa.